Eccoci qua Barbuti, direzione dal barber Francesco Cerignotta a Milano, zona Navigli. Andiamo a sistemare sta barbona. È un mese che non l'ho fatto sistemare e mo' andiamo a coccolarla. A dopo! Eccomi qua, finito sistemazione barba. Fantastico, vediamo. Quindi guarda, bellissimo. Avere un barber fidato, ottimo lavoro Francesco Cerignotta, grande maestro. Contentissimo. Sempre più bella di niente. Ciao!